Buongiorno, ciao amiche mie. Allora, io sono Ivana. Per chi non mi conoscesse ancora, perché da poco che magari si è iscritta al mio canale, io abito in Veneto ma sono napolitana. Se non vi siete persi il video di ieri, abbiamo iniziato a fare i lavori per la mia camera relax. Ieri non vi ho potuto far vedere il risultato finale perché era buio, comunque la pittura era ancora fresca, quindi non si sarebbe visto niente. Anche se oggi, devo dire, non è una bellissima giornata perché buia e brutto, vi cerco di farvi vedere. Praticamente non c'è un raggio di sole. Vediamo se riusciamo a far vedere, io più che altro vi volevo far vedere i glitter, se si vedono i glitter nella pittura. Vediamo un po' se riuscite a vedere. Cerco di avvicinarla comunque. Comunque vi posso assicurare che è piena di glitter, perché si vedono, forse, non so se riuscite a vederli bene, ma comunque ci sono. Allora, non ve la faccio vedere tutta perché dobbiamo ancora finire di fare i lavori. Vi faccio vedere, vi sto facendo vedere solo un po', questa parete qui, perché devo ancora pulire, poi si devono fare dei ritocchi, perché praticamente il mio marito, non dico che ha pittato pure il soffitto di viola, ma quasi quasi, dobbiamo fare parecchi ritocchini. Vabbè, io vi ringrazio tanto, se per caso ancora dovete iscrivervi al mio canale, fatelo al più presto, attivate sempre la campanella per non perdervi tutti i miei video. Vi ringrazio tanto e saluto tutte le mie amiche di Napoli. Ciao Rossella, ciao Gina, saluto tutte le mie amiche di Napoli, saluto la mia famiglia e ci vediamo al prossimo video.